è finita è finita che mi voglio così così sempre mi voglio mi voglio sempre così orgoglioso di voi orgoglioso sono orgoglioso di voi sono sempre orgoglioso e poi mi dite come mai che provi che cazzo provi a difare questi colori questa squadra ecco quello che provo emozioni calcio passione passione e ci siamo come sempre ci avete dato per finiti ci avete dato ci avete dato per finiti dopo la partita di coppa italia e invece no 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 ci siamo ancora la seconda stella se la volete ve la dovrete sudare fino alla fine fino alla fine ve la dovrete sudare ve la dovrete sudare fino alla fine sta cazzo di seconda stella che volete orgoglioso 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 di voi così vi voglio su tutti che cazzo di palloni fino a fine partita così a lottare tutti che cazzo di palloni a prendere a pallonate a tirare e poi se non fosse entrata pace ero orgoglioso uguale di voi ho visto la squadra questa sera con le palle questa sera ho visto la squadra con le palle con le palle che nonostante lo svantaggio iniziale non si è fatta antivorire non si è fatta non si è fatta antivorire non la vinceremo chi lo sa forse si forse no però questa cosa è certa che ci siamo ci siamo e ce lo giocheremo fino a questa cazzo di ultima partita bologna o no non mi frega un cazzo intanto contro sorpasso e risiamo davanti è quello che conta cazzo orgoglioso di voi orgoglioso anche con un pareggio ero orgoglioso e se perdevamo addirittura ero orgoglioso ugualmente perché ho visto una squadra ho visto giocatori concentrati e motivati incazzati neri incazzati soprattutto soprattutto grazie grazie per non averci dato quel rigore il primo tempo è lì che ci avete innescato la scintilla è lì che ci avete innescato la scintilla un'altra volta perché dopo tutto l'anno dopo tutto l'anno di torti arbitrali perché con noi la bar non funziona mai non entra mai in azione non si sa come solo per darci contro entra in azione solo per darci contro questa è stata la scintilla che ci ha fatto innescare e ci ha fatto conquistare l'olimpico anche questa sera onore a tutti 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 anche chi è entrato dopo chi è entrato i super entrati hanno fatto quello dovevano fare concentrati incazzati neri rabbiosi con la rogna 18 20 19 20 diavoli con la rogna addosso con la rogna addosso cari cartonati voi sarete sarete anche forti più forti di noi ma lo dovete sudare quest'anno lo dovete sudare fino all'ultima partita ovvero dio ovvero l'ultima cosa che dico madonna porca di quella azzuzza lo dovrete sudare ma sudare ma sudare che dovete partire le pene dell'inferno fino alla fine con il diavolo bravi bravi e tonalino tonalino mio e sangue mio sangue rosso nero e quello che avevo chiesto reazione reazione da grande squadra reazione da grande squadra reazione da grande squadra cazzo tutti ce li siamo mangiati tutti i centimetri ogni millimetro ogni millimetro ce li siamo mangiati in secondo tempo primo equilibrato forse un po' più noi ma al secondo tempo ce li siamo divorati grazie del torto arbitrale ancora una volta questa volta guardate pezzi di merda che non siete altro strozzi ma questa volta ci avete innescato ci avete fatto un piacere ci avete fatto ci avete fatto un piacere questa volta ci avete dato una carica ci avete dato quella spinta e più comunque like e campanina attiva ci sentiamo per il post partita più calmi onore vittoria doveva essere e vittoria è stata alla fine è arrivata San Giovanni non vuole inganni ricordate ogni notte vengono al pettine era giusto così per quello dimostrato in campo era giusto così sì onore a tutti onore ma vi fate tanto incazzare perché poi ci sono state anche cose sbagliate ma non me ne frega un cazzo perché è quello che volevo io volevo vedere grondarvi volevo vedere sudare vi volevo vedere sudare impegnarvi volevo vedere con la baba la bocca e vi ho visto così e vi ringrazio vi ringrazio thank you merci oliverta pen giru come mai come mai ti fai questi colori come mai io ci credevo ci ho sempre creduto e mi dite di no testimoni andate a vedere video indietro testimoni li andate a vedere dite che ci ho mai creduto eh che voi andreste in galera un innocente come mai ami mela come mai sei milanista come mai ami questi colori eccoli qui ve lo ridico passione amore gioco del calcio e sensazioni ciao alla prossima forza Miro